Festa grande ieri a San Martino in Badia per festeggiare i volontari della protezione civile. Lucio Giudice Andrea. Niente paura, questi non sono schiuzzeni, redentisti o chissà che altro. Sono vigili del fuoco, soccorritori, volontari impegnati nella protezione civile. Nel giorno della loro festa vanno a incassare i dovuti riconoscimenti.